La tendenza nazionale dice che il 58% dei ragazzi italiani che dalla scuola media sceglie un istituto superiore, sceglie un liceo. Il 30% si orienta su un istituto tecnico, il 12% su un istituto professionale. Questa la fotografia del Ministero dell'Istruzione dopo la conclusione delle iscrizioni online all'anno didattico 2021-2022. Una tendenza che Pesaro non smentisce raggiungendo un picco nel liceo scientifico Marconi che continua ad essere la scuola cittadina che cresce di più. 409 iscritti in un anno, basti dire che fino a 5 anni fa cresceva di circa 100 unità in meno. Devo dire sì, effettivamente la nostra crescita è una crescita lineare, evidentemente è una scuola che ha un gradimento ma soprattutto non tanto territoriale ma d'ampio respiro perché i nostri studenti arrivano dalla Romagna, dall'Umbria, dall'Anconetano addirittura, quindi va bene così. Continua il gradimento anche per il liceo artistico Mengaroni aumentato di quasi il 60% nell'ultimo quinquennio, ma anche per il Bramante Genga che registra 170 nuovi iscritti. Stabili i numeri del liceo Mamiani, così come quello dell'Aggarario Cecchi che incassa regolarmente 200 iscritti all'anno. Diciamo l'andamento degli anni precedenti, quindi anche quest'anno penso di fare le mie dieci classi come gli anni precedenti, anzi ho avuto però un lieve calo nel professionale ma stanno già arrivando altre richieste da parte delle famiglie che non sono riuscita a iscriversi, faremo l'iscrizione manuale, cartacea. Al tecnico invece abbiamo avuto un incremento di circa 15 studenti, per un totale di 198 iscritti. Sono invece in calo i numeri degli istituti professionali, sono sotto i 100 iscritti all'alberghiero Santa Marta, sono 50 iscritti in meno rispetto a un anno fa all'Ipsia Benelli. Grazie.